guardate con la pistola che le butta si basta che non la butta di qua non ci voglio nessuno non sta buttando x6 x6 fatti un po' per me fatti un po' per me basta che non sparano ma è una macchina nuova x6 qui ci siamo metti qui metti qua no no le vedo lei l'ho vinto le vedo le vedo c'è la visuale in prescita ecco ah beh in sala dove fossi oro voglio che fossi oro ecco 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.